L'autonomia portata avanti da Beneto e Lombardia, se fosse approdata in Parlamento, avrebbe dato il via ad una sorta di secessione, a denunciarlo il governatore De Luca che è tornato a ribadire l'impegno della regione Campania su questo delicato tema dal quale dipendono servizi essenziali come scuola e sanità. Si stava andando al Parlamento con un accordo rispetto al quale il Parlamento italiano doveva solo dire sì o no, come se fosse un accordo fra Stato italiano e confessioni religiose. È una cosa incredibile. Abbiamo anche chiesto che prima di andare avanti si definiscano i fabbisogni standard e i livelli essenziali di prestazioni per tutti i cittadini italiani. Ma come si può fare un accordo con una regione senza aver definito il fabbisogno standard per tutti i cittadini italiani? La regione Campania in questo momento riceve, per esempio, sulla sanità 200 euro in meno pro capite rispetto a un cittadino dell'Emilia Romagna e 100 euro in meno pro capite rispetto al Veneto e alla Lombardia. Pensiamo alle scuole. Il Veneto voleva addirittura rompere l'unità del sistema scolastico nazionale. Nel Veneto e in Lombardia le scuole che fanno il tempo pieno sono il 25% delle scuole elementari. Nel sud in media saranno il 3-4%. Quando dicono noi non tocchiamo niente, cioè manteniamo ferma la spesa storica, ci dicono che manteniamo in piedi il divario fra nord e sud. Grazie, non toccate niente. Avete il quadruplo delle risorse per la scuola a tempo pieno. Allora noi chiediamo un'operazione di verità innanzitutto, spiegare ai cittadini italiani davvero quali sono le risorse che arrivano nel sud. E prima di procedere definiamo il fabbisogno standard per ogni cittadino italiano. Dobbiamo decidere quante risorse devono essere destinate in maniera uguale a tutti i cittadini di questo paese. Poi ragioniamo anche sulle autonomie differenziali. Bisogno standard che sta creando, lei diceva la sanità, problemi ad esempio per i tetti di spesa. Quindi non si può risolvere questo problema ancora di più se ci fosse l'autonomia. Mi pare evidente che noi dobbiamo riequilibrare i criteri di riparto del Fondo Sanitario Nazionale. Noi in dieci anni abbiamo perduto in campagna 13.500 dipendenti e non potevamo assumere fino a ieri perché c'era il blocco del turnover. Avendo risanato il bilancio sanitario regionale e adesso abbiamo fatto partire i concorsi. Stiamo assumendo a centinaia di medici, infermieri, amministrativi, tecnici. Però è evidente che noi dobbiamo recuperare un divario nelle risorse che è diventato impressionante. Nel mirino del governatore Campano anche il Movimento 5 Stelle per una mancata attenzione sul tema delle autonomie. Secessione significa per capirci 6 miliardi di euro in più al Veneto e 30 miliardi di euro in più alla Lombardia. Altro che non tocchiamo niente a nessuno. E i 5 Stelle tutto sommato dormivano a piedi come si diceva, non si sono neanche accorti. Avete capito che qua ci stanno tagliando l'erba sotto i piedi. Parole precise da De Luca anche sulla situazione vissuta dal governo per la vicenda della Tav. Non lo so che veramente siamo nelle mani del Signore che ogni mattina che ci svegliamo è un'idiozia. Parliamoci chiaro, lei si sente di dire che questo è un governo? A me pare. Una volta c'era Moira Orfei, questo è un circo e questo.